ok allora una volta fatte le strisce vi faccio vedere come attaccarle anche se si fa sempre nello stesso modo quindi non è difficile io ora non ho fermato ancora i fili potete fermarli prima o dopo è uguale meglio prima ora io oramai facevo per finire il video e poi così me li faccio con calma allora mettiamo sempre dritto contro dritto e come al solito andiamo qua nell'angolo e qui vedete dovete riconoscere le tre maglie vedete una che sono una due e tre sono queste tre viste da sopra ed entrare in questa centrale quindi questa è la maglia centrale quella in più che abbiamo fatto per girare e qui facciamo quindi prendendo sempre un lato e l'altro facciamo una catenella la nostra prima maglia bassa che è questa poi rientriamo ancora una volta qui e prendiamo la seconda di qua perché qui nell'angolino anche qui aggiungiamo una maglia dopodiché faremo sempre così da questa parte abbiamo la maglia alta quindi entriamo sopra la maglia alta qui mi raccomando vedete questa è quella dove siamo appena entrati entriamo sempre in quella dopo e facciamo la maglia bassa poi entriamo nello spazio e qui sempre nella successiva perché qui sono tutte maglie basse poi qui ancora sopra la maglia alta e nella successiva e continuiamo così qui sempre una volta dentro dietro invece sempre uguale e una volta sopra ecco qua e anche qui arriviamo l'ultima sarà qui nello spazio o invece sempre sopra non abbiamo più da distinguere niente sull'altro lato e di qua uguale rientriamo nella nel primo spazio dopo la cuscitura dietro invece sempre normale quindi qui abbiamo fatto vedete una maglia qui nello spazio e una maglia nello spazio successivo qui intorno alla costolina e poi continuiamo quindi una sopra dietro sempre uguale chiudiamo quindi anche questo lato tutto così in questo modo quindi una volta nello spazio e una volta sopra la maglia alta quando arriviamo qui alla cuscitura una qui e una qui la cuscitura non la consideriamo e qui in questo modo attacchiamo questo lato e la stessa cosa facciamo poi con l'altro pezzo lo metteremo dritto contro dritto su questo lato lo attacchiamo allo stesso modo in modo da fare il pannello da quello proprio il pannello completo di uno dei due lati larghi della borsa e poi vi farò vedere come fare anche quelli laterali ok adesso abbiamo fatto anche le due piastrelle laterali quindi le due grandi quelle che saranno i fianchi della borsa e per farli io ora non sto a farvi tutto il tutorial perché è veramente semplice perché dopo è la classica lavorazione grandi dopo i primi giri quindi una volta che la piastrella è quadrata ogni giro basterà fare partiamo sempre con le tre maglie alte nell'angolo e una catenella e poi ripetiamo sempre tre maglie alte una catenella in ogni spazio del giro di sotto come abbiamo fatto nell'ultimo giro appunto della piastrella non con le maglie alte doppie ma questo con le altre maglie alte normali non doppie e facendo sempre in quella di angolo tre maglie alte due catenelle tre maglie alte per girare quindi ogni volta che facciamo un giro in più aumenterà una piastrellina diciamo un gruppetto di tre maglie alte in più rispetto al giro precedente quindi in tutto saranno uno due tre quattro cinque sei sette giri e io li finisco l'ultimo giro una col colore di base di questo pannello che ho fatto e l'altra col colore di base dell'altro pannello che ho fatto dall'altro sull'altro lato perché io come vi avevo detto vedete ne ho fatti diversi uno un pannello un lato sarà blu e un lato sarà con questo grigio in modo da avere un lato più chiaro un lato più scuro e due laterali vedete anche di qua ce l'ho già li ho già attaccati sempre uno rifinito con la base del dietro e uno con la base del davanti ok quindi finiamo il giro sempre con le nostre tre maglie alte e poi faccio sempre una catenella e una maglia alta doppia qua nell'ultima nella terza catenella di avvio una maglia scusate una mezza maglia alta in modo da ritrovarmi così al centro del dell'archetto di catenelle quindi ancora una volta io unisco i due dritto contro dritto ricordatevi quindi l'esterno il rovescio fuori e dentro nell'angolo e anche qui la chiudo sempre nello stesso modo come ho chiuso le altre quindi una maglia qui nell'angolo e poi farò una maglia sopra ogni maglia alta quindi una maglia bassa prendendo entrambe le maglie come ho fatto prima per attaccare insieme le altre quindi anche qui farò lo stesso modo quindi contate sempre mi raccomando per non sbagliare che a parte la prima dopo saranno sempre tre più una quattro quindi saranno gruppetti di tre più uno quattro quindi 4 4 4 conti contate sempre quattro fino a aver attaccato insieme fino all'angolo e poi adesso vi faccio vedere come attaccare più che altro semplicemente per una questione di numero di maglie perché poi è la stessa tecnica anche come attaccare questo pannello al pannello frontale ecco qua quindi finiamo attacchiamo tutto insieme tagliamo il filo e queste sono le due piastrelline attaccate con uno dei due colori e l'ho fatto col grigio lo potete fare col blu col grigio come preferite adesso in cui abbiamo queste vedete queste qui queste due piastrelle sono una due tre quattro cinque sei sette gruppetti quindi quattro per sette sono 28 maglie più una d'angolo 29 quindi sono 29 più 29 sono 58 maglie in tutto su questo pezzetto qua e lo dobbiamo attaccare qua e qua in realtà ne abbiamo meno perché qui abbiamo 23 più 23 più 9 che fa 23 più 23 46 più 9 55 per far tornare quindi il numero delle maglie per attaccare insieme le piastrelle io entrerò due volte negli angoli entrò due volte negli angoli del fianco e le due maglie centrali delle della piastrella del fianco le farò entrare al centro della piastrellina quindi le entrerò ne metterò tutte e due insieme al centro della borsa in questo modo recupero tutte e tre le maglie di differenza allora io col colore di base quindi in questo caso di questa mettiamo sopra potete cuscirla da entrambi i lati io preferisco fare questo da questo lato sopra perché è più semplice contare le maglie di qua di là tanto dobbiamo entrare sempre nei gruppettini è più semplice anche tenere il conto quindi preferisco fare questo sopra quindi entriamo allora qui vi dovete andare a ricercare la terza quindi vedete qui sono una due tre quindi noi entriamo nella seconda quella in più che avevamo fatto e di qua entriamo nell'angolo prendiamo il filo sempre con il nostro cappio e facciamo subito la prima maglia poi qui entriamo direttamente nella seconda e qui rientriamo ancora in quella d'angolo in modo da recuperare una maglia in più qua e qui uguale quindi faremo una maglia qui e queste sempre saranno vedete queste sono le tre maglie alte quindi contate sempre quattro quindi per non perdere per non sbagliarvi facciamo sempre una qui sempre sono già maglie basse quindi è più semplice quindi una due successiva e tre poi la successiva è qui la quarta qua nello spazio come abbiamo fatto prima quindi qui andiamo avanti in questo modo ecco qua finito di attaccare vedete fate attenzione che più o meno vedete c'è più o meno che la cuscitura vi deve venire qui al centro delle due maglie qui dei lati sono vedete questo è l'angolo questi sono i due lati e qui potete entrare anche due volte potete recuperarla qui la maglia che vi mancava qui entrate con entrambi la e sono entrata con entrambi i lati qui in modo da farla venire esattamente qua al centro e finiamo quindi questa cuscitura qua fino a questo lato e anche qui tagliamo il filo e lo facciamo uscire ok a questo punto adesso dobbiamo intanto misurarlo sulla borsa ora io l'ho già misurato prendete la borsa e lo misurate e poi l'attacchiamo anche giro giro quindi facciamo la stessa cosa che abbiamo fatto fino a qua ripetiamo quindi con i due lati con i fianchi mi raccomando attaccateli all'altro pannello e le altre due piastrelle grandi dell'altro fianco le attacchiamo qua quindi attacchiamo tutti e quattro i fianchi sempre allo stesso modo quindi cucendole vedete qui ad esempio abbiamo il blu quindi la cucirò con il blu di qua ho il grigio la cucirò con il grigio voi ovviamente se avete un colore solo il problema non esiste quindi sempre nello stesso modo attacchiamo anche due lati in modo da avere proprio la borsa attaccata su tutti i lati prima di attaccarla mi raccomando misuratela sulla borsa perché se non avete la borsa delle stesse misure che ho io ovviamente dovrete adattare un po' la misura delle piastrelle alla vostra borsa ecco quindi finito di attaccare tutti i bordi vedete in modo che venga proprio tutta chiusa adesso dobbiamo nascondere tutti questi fili quindi adesso fermiamo tutti i fili dopodiché faremo un giro di rifinitura in alto e un giro di rifinitura in basso grazie a tutti Grazie a tutti